La ruta è di tanto! No, dai! Poi davvero provare! Ma, si vorrà! Si vorrà che vorrà ci provare! Ehi! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Perfetto, questo vi chiedo delle impressioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.